Ok Google, accendi le luci della camera da letto. Ok, accendo le luci della camera da letto. Ehi Google, riproduci la mia playlist risveglio del mattino. Certo, riproduco la tua playlist di Google Play Music chiamata risveglio del mattino. Ok Google, quali sono le previsioni meteo per oggi? Oggi a Roma ci sarà il sole, con una massima di 23 gradi ed una minima di 18. Buongiorno bambini. Ciao mamma. Ok Google, aggiungi latte alla lista della spesa. Ok, ho aggiunto il latte alla tua lista della spesa. Ok Google, quanto tempo impiegherò per andare al lavoro? Con traffico intenso impiegherai 30 minuti per andare al lavoro in auto. Oh, è già ora di andare. Andate a prendere la cartella e salutate il papà. Ciao papà, buona giornata. Ehi Google, a che ora è la mia prima riunione oggi? La tua prima riunione è una telefonata con il dottor Rossi alle 10. Ok Google, qual è il passo successivo? Riscalda l'olio d'oliva a fiamma media in una padella profonda. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Ok Google, riproduci un po' di musica jazz. Ok, ecco la stazione di Google Play Music, Essential Jazz. Ok Google, riproduci bumps su tutti gli speaker. Va bene, riproduco i bumps da Google Play Music su tutti gli speaker. JBL Link, un suono leggendario, ora anche smart.